musica 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 eh, e vabbè portami a sto tavola musica 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 vado anch'io? cosa devo fare? vai vai non c'è altra felice Ma le misi ora Mi sfiori signorina ma faccia piano eh E' una passaporta la signora Mmm Ok Cosa mi significa tutto questo Riposo alla tavola della grazia perduta Lo faccio? Si si Io parlo normale Tutti quelli che ci sono lì esploro un po' Allora vi dico subito ragazzi Che se voi andate C'è un balconcino sotto un salone Se ti butti giù Inizia il scontro con un NPC fortissimo Allora aspetta che aumento un po' di robe qua Va Vitali dai tempi? Io vorrei l'arma che usa quella di PC Maledizione Da un lato c'era tutta Una parete rocciosa Con dei simboli E c'erano Un po' di come un po' di lasti non morti Con la torcia Anche Ma che stavano lì e non che andavano in giro Uno con la torcia Due tre che scavavano Non so cosa faccio Allora Trovati Ok A posto Il simbolo che ho in alto a sinistra Tipo comunità europea Cosa vuol dire? Un cerchiolino sarebbe Deva sapere Ah Eh Sì Non c'è Vabbè Praticamente È Da questa parte È proprio Mi sa che è proprio davanti a noi su Dove c'è quello zombie Lo vedi là su? Ma In cima? Sì Vedi che c'è nella fascia lì di sopra Da un Uno zombie Questo? Sei pronto? Eccolo Che cosa cazzo? Ah io questo l'ho già affrontato Io questo qua Ne ho affrontato due Erano però nei boschi Stanno assegurando Da qualunque Eh ma è tosto sto a fare eh Ah ma non è così difficile Perché non fa così male A te Sì Ti 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 vieni qua bastardo Prendita la com'è Eh Eh praticamente Oh 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 L'hai trovato il Ok Tanto ho abbandonato Carlo Quando ci stai dimmelo che ti Tranquillo Carlo Non ti può fare Vai vai Eh non lo vedo Dovresti avere degli alberelli davanti Ah ce l'ho preso Aiuto Mi ha fatto una mossa L'ho preso Bellissimo Eh no Non lo vedo La sarà mica anche perché siamo in mezzo a una boss battle Potrei essere morto Sei morto? Eh beh sì No vabbè non lo vado ad affrontare Ma questo qua mi fa un culo così No no ma è morto No e aspetta E vuoi camionati Vieni di nuovo Io di solito uso i tipo i tizi che Eccolo ho trovato uno Kamatsuka Io di solito uso i contadini come carina da macella E' un po' meno distraggio E adesso Ma tre facciamo International E' qua Sì ma è Comunque ha C'è un terzo di vita Se me è da solo Ma è massacrato Io non mi sono neanche impegnato Quando ho visto Che non gli facevo nulla Eh sì Però quello E' comparso Da tipo Da sottoterra E' tornato via No no ancora lì Non vorrei che si Resettasse Ah no Si è caricato la vita Per un po' Vieni Se hai il coraggio Ahia Eh ma stai calmo eh Tra l'altro Siamo su sta strada qua Che arriva anche Quello a cavallo Porca miseria Allora ragazzi L'obiettivo E' farci Un affondo forte Perché lo stundiamo L'ho mancato Ah Fatto Davanti La faccia Ah bravo Dovrebbe fare Sanguinamento Però eh Ogni tanto Che cavolo Eh ma La tua mille Passa Aruna eh Lacrima Di larva Venghi Buonuo Eh una palla di fuoco Che bello Disintegrato Disintegrato Armatura Di Kaiden Ok Volete Farlo voi Attualmente Magari Viene Distruttito Da Dal Mostro Eccolo Diciamo Andere giù Vieni Vieni Peccato che non c'è L'attacco Dall'alto Perché io Mi faccio Nettamente Più male E quindi io Anche potrei Fargli più male In teoria Eh esatto Quello che voglio Cercare di capire La differenza Di prima È che ho La metà Delle ampolle Vediamo Un po' Ma Morto Morto subito Morto subito Probabilmente Quelli Sì Essendo più forti Di livello più alto Qui si abbassano le statistiche Mi sa Sì Vai Piro Tocca a te Kawabonga Ehm Come diavolo si fa Ci pensi Grazie Devi fare Il trancia di Ah ok È giusto Eh sì Acqua E' un'erone Per i reputativi Per i tortilli Piro Sgranocchia l'acqua Incredibile Ah Ah è vero Adesso mi è venuto Il flash Praticamente Lì dove c'è il falò Quella Specie di Striscia Ectoplasmatica Ti dice dove dovresti andare In teoria E' vero E' vero E' vero Eh io ne ho trovato uno Ne ho seguito uno Che va fino giù a sud Quindi probabilmente Quello è un altro boss Da fare Oh porca Il primo Il secondo Magari Magari Non c'è un ordine Non c'è un ordine Non c'è un ordine Fornire supporto Che freccia Che freccia Che freccia Un mi ha preso Ma non possiamo fargli niente Quando ho imprese Oh no Ho preso me Ha preso tutti e due Incredibile Non ci credo Porca Mi ha fatto più male lui Che l'altro Ma ci dà una mano Almeno il cavaliere Senti no Anzi Si Ci dà una mano Al morire No Aiuto Ok va bene Rifacciamo Alla U Eroe Non teme la morte Scusate un po' di jetlog Perché nel mio mondo è notte E poi quando vado a dopire Gior Anche nel mio mondo è notte E poi arrivi Gior Allora 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 Qua il tranciadita Ok Piano piano imparo tutto Va Eccomi a Torianzo Dove va Ma come ha fatto a farmi danno Imparata Perché forse Ha superato La sua difesa Ok Stavolta è andata Molto Ma c'è un sacco Di rune E vai Sono ricco E questi sicuramente Sono oggetti Particolari Ah Cavaliere Venga Cavaliere Eheh Faccio da marci indietro Dai A posto Eheh L'hai stunnato Uh Un oggettino Disarcionatore Dove sei? Cosa che facciamo? Andiamo Sì Non ho mai visto Quello che l'hai stunnato Ma no Andiamo No Mai C'è uno con la tromba Anche forse Vediamo un po' Se tra questi Ah no Mago Eh Non è che erano proprio Sì Ebbè E' quello standardo Non è che può combattere Ma sì Ma quelli che si mandano avanti Piro ha giocato Warhammer Cioè Quello standardo Sono lì Per morire Ma Vi è Aspetta Andiamo Andiamo a vedere Qui Vedete Eh sì Cacchio Mi si Si muove tutto a scatti A me Porca miseria Dove vedere Qua sopra C'è qualcosa Basta È morto Tra l'altro Mi attaccano Che sono vestito Come loro Molto male Mi va tutto a 10 fps Ah sì Perché sono in tanti ore soldati No Cioè Sì Sì Vabbè ma È una questione Sì 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 Guarda quanti Guarda quanti Ah c'è il carro da seguire Da prendere Il carro Che bello Andiamo Aspetta 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 che ci lancia una bomba Uno Uno Aspetta Oh Chi è che tromba Quanta roba Ah ma sono frutti E basta Ah Peccato Ma prova a prenderti il tesoro C'è il cavaliere a destra C'è il tesoro qui Ma prendi un po' Senza farti vedere Ah ok Deve essere fermo Cuvetta congelata Scusi si può fermare signore Si è fermato il carro Come mai si è fermato Ah C'è qualcuno Che Si è riuscito a aprirlo Ok Vai Ma li stai massacrando E uno è morto Ma sono scazzi Perché hanno già un palo Inspirato In effetti Un oggettino Ma non è niente Ha provato a tirare un pestone Subito Magari non erano da uccidere Perché ogni tanto compare un carro con un tesoro Hai trovato qualcosa di interessante Ha trovato qualcosa di interessante Ah vabbè Poteva andare peggio Ah io avevo trovato un certo oggetto Ma aspettate venite però C'è un villaggetto qui Cioè non so che cosa sia Un posto diroccato probabilmente Disarce un attore Si arrivo Spadone curvo Seguimi Veditemi Dietro davanti Io vi ho persi Ah no Ci sono dei simbolini Ok Eccovi qua Qui perché il suo map è un posto Probabilmente c'è qualcosa da fare Oh c'ho Quasi 9000 rune Punto di sosta in rovina Ma ci sono dei fiori da uccidere Dove li hai visti? Qui Me ne hai di punta Dei fiori? Si Ah si smontano Mi hai visto a guardare Ci sarà qualche oggetto Carino da prendere Polvere di miramba Fior veleno Fai attenzione fiore Grazie Altri fiori Ehi cos'è sta roba? Ehi Ma questa la fa Questa l'abbiamo vista in giro Questa cosa C'era me Ah fai un fior grosso C'è un fior grosso Eh ma ci avvelena Eh sono avvelenato Mi aiuto fuoco Ho 36 frecce ancora Voglio vedere Allora Ah io ho due ampolle Adesso mi ha velen Ah Dai c'è gli oggetti per il veleno Ok Ah ma se ci andiamo con le torce Ah si Oh la Che è stato Ci voleva tanto a uccidere un'orchidea Ah ma è ancora piccola Ah 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 Grazie.